Il profè ha vinto nel 2010, un grande applauso per Daniele E' seguita Sta entrando Mr. Caterpillar Sta entrando Mr. Caterpillar A presto A presto A presto A presto A presto Coltile A presto A presto Scoperta S許 Perche' perché così aumenta sicuramente l'attruzione scomando di meno si fanno dei tempi ovviamente migliori ok, andiamo adesso a sganciare la sicurezza per i paracadute obbligatorio per questi mostri segnalato, viene sempre segnalato un applauso per Sebastia e giù alla Francia prestigio stage ottima l'attrazione lancio come un missile signori otto secondi e uno pensate a pareggiato il tempo di Davide con il suo provo